Ecco i tagliolini ragazzi, i tagliolini al limone. Perché non siete venuti da me oggi? Per evitare tu che ci dicevi compiti, 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 fate i compiti, compiti, compiti. Non mi piace. Ti piace il pesce? Non mi piace sta zuppa di pesce. La zuppa di pesce, la zuppa di pesce. Non mi piace la zuppa di pesce. E tu esci tutti i giorni? Ok, io Domenica esco. Io ho detto, vado a farsi i capelli, vado a fare la spesa quella e quell'altra. Ah, la spesa. Domenica io esco allora. Ma dov'ate? Eh, dov' esco Domenica? Ma te esco ora. Esco. Pop, pop, pop. Ma perché sta morendo veramente? Stia di ridere, eh. Per favore. Sta morendo davvero. Ma è bellissima. Brava. Doria, come si chiama questo? Buongiorno. 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 Buongiorno.